Scorribande pericolose con auto e moto a Bellizzi. L'altra notte motociclisti e automobilisti spericolati si sono sfidati a colpi di acceleratore in via antica nella zona industriale e residenti hanno allertato le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi a puntare l'attenzione sulla pericolosa situazione era stato il primo cittadino di Bellizzi, Mimo Volpe, che ha allertato la Polizia Municipale e le forze dell'ordine, sia per chiedere maggiori controlli di sera e di notte che per individuare i balordi che si sfidano per strada. In via antica, dice il sindaco Volpe, c'è la videosorveglianza comunale e sarà facile individuare chi di notte guida a velocità sostenuta e rischia di travolgere qualcuno. Le forze dell'ordine hanno acquisito a più riprese i video realizzati in via antica e in via dell'artigianato per identificare i balordi che rischiano di investire i passanti e di provocare incidenti stradali. Le scorribande di auto e moto si ripetono anche sul rettilineo della zona industriale, dove in passato si sono verificati incidenti mortali. Intanto le telecamere collegate con un circuito di videosorveglianza comunale potrebbero essere il vero deterrente per scoraggiare i balordi.